Delinquenti al volante lungo la statale 36 a Verceia. Li definisce così il sindaco Flavio Regioni in mano gli esiti delle rilevazioni alla velocità effettuate l'ultima settimana di agosto con il posizionamento di sistemi di controllo della velocità ai due estremi del paese. Dai 12.000 passaggi quotidiani un automobilista addirittura ha raggiunto i 153 chilometri orari, il triplo rispetto al limite massimo in vigore nel centro abitato. Tanti passaggi a 130 all'ora. Ad alimentare la preoccupazione l'orario di transito rilevata a una velocità di 146 chilometri orari alle 8, di 135 a mezzogiorno, di 136 nel pomeriggio, ovvero in pieno giorno quando le strade sono molto trafficate e tanti pedoni attraversano la strada. I passaggi oltre i 90 chilometri orari che prevedono la sospensione della patente di guida in sette giorni sono stati oltre 2.000. Di notte vicino alla stazione ferroviaria di Verceia su 7.000 passaggi solo 108, l'1,5% i veicoli che hanno rispettato i limiti di velocità. E mentre nell'ambito del progetto nazionale, attentamente al quale Verceia ha aderito, ora scatta l'installazione dei velochei, le colonnine arancioni, il sindaco Flavio Regioni esprime sconcerto e indignazione. Numeri vergognosi tuona o Regioni. Quanto rilevato è inaccettabile. Chi viaggia a questa velocità in un centro abitato sa che può uccidere. Attiverò tutte le azioni necessarie per contrastare questi comportamenti delinquenziali, conclude Regioni, prima che ci scappi l'incidente e magari qualcuno perda la vita.